Il rugby in Valtellina Grazie al lavoro di tutte e tre le società che fanno parte della Valtellina che sono il Delebio, il Sondrio e il Sondalo Nel sud della Valtellina, cioè a Delebio dove sono io c'è stato un grande lavoro nelle scuole grazie a tutti i volontari facendo parte dell'US Delebio e pian piano è cresciuto specialmente nelle giovanili Con il mio club è rimasto un grandissimo rapporto quando torno a casa mi sostengono sempre, mi vengono a trovare e appena riescono vengono anche a sostenermi nelle partite Nella tua carriera chi è stato per te un esempio da seguire in campo? Negli ultimi anni ho preso esempio da due grandi talonatori che sono il talonatore della Nuova Zelanda e il talonatore degli Springboks che sono il grande esempio del talonatore perché hanno grande fisicità, grande velocità e tantissima intelligenza che negli ultimi anni serve tanto Chi e quando ti ha fatto capire che il tuo futuro vale sarebbe stato in prima linea? Nelle giovanili fino all'Under 16 ho sempre giocato nei tre quarti successivamente quando sono entrato nell'Accademia di Milano mi hanno spostato in prima linea dove adesso come adesso è stato lo spostamento migliore perché comunque c'è un onore lavorare in prima linea ed è molto bello Parlaci dunque del tuo ruolo, il talonatore siamo tutti curiosi di capire se davvero sei il fulcro della mischia Diciamo di sì perché comunque in mischia tutte le direzioni di spinta vengono date dal talonatore il talonatore in mischia è colui che dirige come per esempio il maestro in un concerto quindi sì, in mischia è abbastanza importante il lavoro del talonatore L'esperienza al mondiale in Georgia è stata una delle migliori esperienze perché sono riuscito a confrontarmi con i migliori giocatori di tutte le nazioni e anche come aspetto professionale è stata la migliore esperienza avuta fino adesso Concluso l'Accademia dopo un solo anno rugby vedana 1970 torni a Parma quali sono state le differenze maggiori tra il campionato eccellenza e il Guinness Pro 14? La differenza principale è il livello di gioco che c'è fra l'eccellenza e il Pro 14 Nel Pro 14 c'è un'intensità molto maggiore rispetto all'eccellenza e anche come lavoro dell'avversario è tutt'altra cosa In Pro 14 si lavora tanto al video al tanto per studiare gli avversari per vedere i loro punti forti e i loro punti deboli C'è da dire che nell'eccellenza negli ultimi anni però si è alzato anche lì il livello di intensità di gioco anche il minutaggio effettivo Oltre all'allenamento collettivo con la squadra il tuo ruolo ti impone anche sessioni individuali di lancio dell'ovale Come funziona una touche? Sì, io faccio due o tre allenamenti extra a settimana sul lavoro del lancio L'intouche negli ultimi anni è cambiata Ora per il tronatore è tutto un lavoro di anticipazione su dove il saltatore salterà come salterà e i diversi movimenti che in una touche vengono fatti Come sempre è uno dei punti maggiori in una partita dove bisogna avere il possesso della palla e diciamo che a lanciare bisogna lavorarci perché con tanto lavoro si riesce a lanciare bene Sei iscritto all'Università degli Studi di Parma e frequenti il corso di Economia e Management Pensi già al futuro dopo il rugby? Sì, io ho da due anni che studio all'Università di Parma faccio Economia e Finanza e sì, sto già pensando a un futuro dopo il rugby perché comunque il rugby non ti fa campare per tutta la vita è un lavoro cui pensavo da fare già da piccolo quindi è un sogno che si è avverato però comunque finisce dopo un po' e c'è tutta una vita davanti quindi con lo studio c'è un piano B Quali sono dunque le tue aspettative individuali quelle per la tua squadra per la stagione appena iniziata? Come aspettative individuali ho quelle di migliorare me stesso sia sotto il punto di vista rugbystico che fisico e quello di giocare più minuti possibili così da riuscire ad aumentare anche la mia esperienza in un campionato di alto livello come il Pro 14 e come aspettative di squadra quello sicuramente di migliorare le vittorie che ci sono state l'anno scorso e fare il meglio possibile non è detto che magari anche arrivare ai play-off Domenica la partita contro Manchester per la prima volta affronterai una delle squadre più titolate d'Europa che fa del pacchetto di mischio il suo punto di forza parlaci del prossimo avversario Sì, il Master lo sappiamo è una squadra che come mischia molto 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 forte sia come MOL che come mischia in sé noi dobbiamo riuscire a allarginare la MOL e le mischie abbiamo fatto un lavoro in settimana molto buono abbiamo lavorato specificamente su quei due aspetti lì e basta bisogna giocare la nostra partita tenere il pallone come sappiamo fare e farli correre E allora in bocca al lupo Massimo Ciciliani e le tue Zebra Grazie e Crepi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti